Buonasera a tutti e ben ritrovati con il consueto appuntamento in casa Merbag. Innanzitutto vorrei ringraziare le circa 1500 persone che nello scorso weekend sono venute a farci visita. Considerate che all'incirca una persona su dieci ha deciso di darci la propria fiducia e di acquistare la vettura in Merbag. Quindi grazie di cuore, grazie per averci visitato e mi auguro che siete stati bene. Per chi non è riuscito a venire a trovare vi rimando al prossimo appuntamento visto che ogni sei mesi la festa Merbag viene comunque replicata. Questa sera vorrei avvalermi della collaborazione del Nicolò che oramai conoscete bene perché ha già fatto alcune puntate con noi, il quale vi illustrerà la prosecuzione dell'operazione Special Price. Quindi abbiamo anche in questo caso oltre 120 vetture bollinate Special Price con dei prezzi assolutamente imperdibili. Adesso passo la parola a Nicolò in modo che possiamo cominciare con la consueta carrellata di vetture. Grazie Ilio, buonasera a tutti. Partiamo subito fortissimo con l'operazione Special Price. Vi presento una bellissima classe E350D Premium, blu con interno chiaro, veramente molto bella, con 11.000 km del febbraio 2017. Una vettura che è di listino, pensate, ha un prezzo di 82.000 euro. Il prezzo normale di vendita è 53,9 e solo per voi operazione Special Price 45.900 euro. Passiamo poi a un esemplare, sempre E350D Premium Berlina, in questo caso con una connotazione più sportiveggiante, quindi un bel grigio scuro, con rifiniture in nero anziché cromate. Questa vettura ha 12.900 km, è del giugno 2017 ed è ad un prezzo anch'esso super ribassato di 45.900 euro, a fronte di un listino di 76.350. Passiamo a questo punto a un esemplare più dedicato alle famiglie, sempre una classe E, in questo caso sempre con motorizzazione 3 litri 6 cilindri, quindi una 350D Premium, in versione 4 Matic, quindi con quattro ruote e motrici. Questa vettura ha un prezzo di listino di 81.000 euro e un prezzo normale di vendita di 50.000. Solo per voi, operazione Special Price 45.900 euro. Le tre vetture sono praticamente full optional, in questo caso abbiamo tetto apribile elettrico panorama, sedili riscaldabili e sospensioni attive. Davvero una bella, bella vettura. In questo caso scendiamo di dimensioni, ma non certo di prestigio. Abbiamo una vasta, davvero vasta gamma di classi C, Mercedes, Benz. In questo caso abbiamo un esemplare argento del 2018, una C220 D Sport Next Automatic, con pochissimi chilometri, 14.000, ad uno Special Price di 31.900 euro, a fronte di un listino da nuova di quasi 50.000. La vettura è equipaggiata con cerchi lega da 17 pollici, faro full LED, cambio automatico. Davvero molto molto bella, ad un prezzo super interessante. Ora cambiamo genere. Vi presento una bellissima CLA 45 Enghe Shooting Brake del 2016, con 43.000 km. Una vettura che è decisamente più prestazionale rispetto alle precedenti, ma mantiene comunque il comfort tipico delle vetture della stella. In questo caso abbiamo un prezzo di listino della vettura da nuova di 71.000 euro e uno Special Price davvero eccezionale, in questo caso, di 34.900 euro. Per questo bellissimo esemplare in questo grigio montagna con pinze e freno rosse, sedili performance, centro di parcheggio e vetri oscurati. Davvero una bella bella vettura, per famiglie veloci. Prima di proseguire con le occasioni Mercedes-Benz e Smart, vorrei ricordarvi che qui in Merbag trovate anche offerte su vetture di altre marche. Come ad esempio questa compatta tutto pepe, una mini John Cooper Orcs Hype del 2016 con 25.000 km a 27.900 euro. Qui a fianco abbiamo la sorella in versione cabrio, anch'essa del 2016 con 11.000 km a 28.900 euro. Qui abbiamo un'occasione di tutt'altro genere, decisamente più fuoristradistica, una bellissima Jeep Wrangler 2008 CRD Sahara del 2017 a 32.900 euro. Qua in Merbag trovate un vasto assortimento di Mercedes-Benz classe B aziendali, manuali o automatiche, in varie colorazioni, con prezzi a partire da 21.900 euro. Merbag Milano è anche Smart Center. Da noi trovate un'ampissima scelta di Smart 4-4 e 4-2, aziendali e non. In questo caso abbiamo un esempio di Special Price Merbag. Abbiamo un esemplare di Smart 4-4 Youngster del 2018 con 17.000 km che a fronte di un listino di 15.000 euro è offerta ad 8.400. Davvero un prezzo incredibile e irripetibile. Ora tocca alla bestseller Mercedes-Benz classe A. Qua in Merbag ne abbiamo davvero una grande disponibilità, sia benzina, che diesel, che automatiche, che manuali, in vari colori e allestimenti. Venite a trovarci perché ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Vi faccio un esempio. Qui a fianco a me abbiamo una bellissima classe A 180D Executive Automatic del 2018. Una vettura aziendale con solo 8.000 km, con un prezzo di listino da nuova di 33.500 euro, un prezzo normale di vendita di 23.900 euro e uno Special Price solo per voi di 20.900 euro. Questa vettura è equipaggiata con pacchetto style, cerchi da 16 pollici, sedili sportivi, mirror pack, quindi specchietti ripiegabili elettricamente e schermo maggiorato da 8 pollici. Concludiamo in bellezza con una bellissima C63S a Enghe Station di un bel blu brillante. Questa vettura è del 2016 e ha percorso solamente 25.000 km. Il prezzo di listino da nuova era di 1.108.000 euro. Abbiamo uno Special Price di 63.900 euro a fronte di un prezzo di vendita normalmente di 68.900 euro, quindi abbiamo un risparmio per il cliente di 5.000 euro. La vettura è equipaggiata con cerchi legare a 19 pollici, tetto apribile elettrico panorama, scarico performance, sistema audio Harman Kardon, pacchetto memory sedili e sedili riscaldabili. Davvero ben equipaggiata. Vi ho presentato solo una piccola parte delle nostre occasioni Merbag. Per tutto il resto contattateci oppure venite direttamente a trovarci qua in concessionaria. Vi auguro una buona serata e grazie davvero. Passo la linea a Ilio. Ciao, un saluto da Nicolò. Grazie Nicolò per questa carrellata di imperdibili occasioni Special Price. Ovviamente, dati i tempi televisivi, questa è solamente una selezione di quelle che sono le vetture in offerta Special Price. Considerate che sono sicuramente più di 120 automobili a vostra disposizione. Volevo soffermarmi qualche istante con voi per ragionare sul perché acquistare una vettura in Merbag. Vuol dire avere un'assistenza a 360 gradi, come abbiamo già visto in altre puntate. E anche per quanto riguarda l'after sales, quindi l'assistenza, proseguono le promozioni. Quindi per i clienti che acquisteranno una vettura usata c'è sempre disponibile il voucher che dà diritto ad avere 100 euro di sconto sul prossimo tagliando. Il primo tagliando ve lo regaliamo noi e lo faremo prima di consegnarvi la vettura. Fra 12 mesi potete recarvi presso le nostre officine e esibendo il voucher ottenere 100 euro di sconto. Ma le promozioni non finiscono qua. Continua la promozione sull'antifurto satellitare Vodafone Guardian con un prezzo veramente ottimo. Parliamo di 999 euro montato e installato con tre anni di abbonamento gratuito. Prosegue anche la promozione sui pneumatici estivi. Quindi qui da noi avrete sicuramente le migliori marche disponibili sul mercato. Tutti i pneumatici marchiati in Mercedes Original con uno sconto che può arrivare fino al 20%. E ovviamente, visto che comincia la bella stagione, vi invitiamo anche per il cambio gomme. E perché no, il check-up gratuito della vostra vettura. Questo check-up quest'anno noi lo arricchiremo anche con il profilatore dei pneumatici. In occasione del check-up estivo, qui da noi in Merbag, verrà effettuata anche la prova di profilazione degli pneumatici. Adesso andremo a vedere nello specifico in che cosa consiste. Sicuramente è molto importante perché quando parliamo di pneumatici, che siano estivi o che siano invernali, le corrette condizioni di usura assicurano la sicurezza della vostra vettura e ovviamente anche dei suoi occupanti. Ecco, a questo punto possiamo vedere che la telecamera ha catturato l'immagine dell'automobile, quindi indubbiamente questa prova è legata a questa vettura con questa targa. E sentiamo il nostro tecnico Enrico che cosa ci consiglia di fare o come legge questa diagnosi. Allora, in sostanza qui si evidenzia che i pneumatici rientrano tutti e quattro nelle tolleranze di misura. Abbiamo i nostri quattro componenti che sono la diagnostica che fa questo strumento, perciò non abbiamo bisogno di gonfiare i pneumatici, controllarli se sono in assetto. Non c'è bisogno di girare il pneumatico e non ci sono nessun tipo di errore o di pericolo su questi pneumatici. Perciò questa macchina ha convalidato al 100% che la vettura è sicurezza e oltretutto abbiamo anche un altro dato molto importante che penso sia la cosa più importante, è che le tolleranze di frenata sono ottime. Quindi con questa vettura possiamo tranquillamente partire per le vacanze? Assolutamente. Bene, grazie Enrico, grazie mille. A questo punto direi che possiamo fare un rapido riassunto degli argomenti di questa sera. Quindi abbiamo visto con Nicolò le offerte Special Price, abbiamo visto le promozioni che continuano e si incrementano per quanto riguarda il mondo after sales. Vi ricordo che per i nostri telespettatori, quindi chi vedrà la trasmissione, sarà sufficiente nominare, ho visto la trasmissione, ho visto la trasmissione Special Price per ottenere sulle vetture che ne hanno la possibilità la garanzia first-end fino a 48 mesi sulle Mercedes e fino a 36 mesi sulle Smart. Non mi rimane altro che salutarvi e invitarvi a venirci a trovare numerosi. Grazie e buona serata.